Gobbi, Gobbe buongiorno. Allora, video breve, senza troppi ragionamenti erzigogolati anche perché vere e proprie notizie di mercato non ci sono, c'è qualche chiacchiericcio e soprattutto c'è la questione UEFA. Partiamo dal chiacchiericcio di mercato. Zaccaria è molto vicino al West Ham, si parla di cifre attorno ai 20 milioni. Buona trattativa. Arthur e McKennie stanno lavorando per tornare in Premier. Sembra che per Arthur ci sia una pista con il Brighton e sarei veramente veramente curioso perché il Brighton di De Zerbi gioca un calcio che secondo me è molto adatto alle caratteristiche di Arthur e quindi potremmo finalmente vedere se Arthur è ancora un giocatore di calcio in un contesto nel quale le sue caratteristiche si adattano bene oppure no. Sarei molto curioso. Per me McKennie ci sono offerte dal Borussia Dortmund al momento non dalla Premier. Dalle persone che conosco io non risulta che la Juventus abbia detto a Bonucci che lui è fuori da qualsiasi considerazione, da qualsiasi progetto. Sicuramente è in seconda linea, può avere un ruolo importante nello spogliatoio, ma non mi risulta che la Juve gli abbia detto cercati un'altra squadra. Chiese Vlaovic, l'abbiamo detto tante volte, il rapporto con Allegri è stato pessimo, pare che Allegri abbia detto che sì sono d'accordo alla loro cessione e quindi da un lato ci sono i giocatori che non vogliono lavorare con Allegri anche perché erano veramente convinti che Allegri sarebbe stato mandato via. Dall'altra parte c'è Allegri appunto che non voleva, almeno così avrebbe detto, non vuole più quei due giocatori e qui deve lavorare Giuntoli perché da quel che so Giuntoli non ha assolutamente intenzione di venderli entrambi. Probabilmente se si incastrano tutti i pezzi di mercato non ne vorrebbe vendere nessuno dei due, ma nel caso Vlaovic è quello che in questo momento è più indiziato per andare via. È chiaro che dipende tutto dalle offerte che possono arrivare. Veniamo alla questione UEFA. Non dico la parola che mi viene in mente perché altrimenti mi chiudono il canale, ma allora da fine maggio mi pare è pronto il report sulle valutazioni che sono state fatte da un punto di vista legale in merito alla Juventus per capire se ha rispettato o meno il settlement agreement che aveva sottoscritto. Ad oggi non si è ancora espressa la UEFA. Se non lo farà entro venerdì prossimo, qual è il rischio? Il rischio che la Juve venga iscritta alla Conference League, che partecipi quest'anno alla Conference League e che durante l'anno arriverà poi la sentenza che dovrà scontare nell'anno successivo. Tradotto, la Juventus potrebbe non partecipare alla Champions League anche nel prossimo anno. Allora io mi rifiuto di credere che la società Juventus e la proprietà John Elkan si facciano prendere per il culo in questo modo. O che vadano alla guerra, ma non credo perché non lo ha mai fatto, non lo fece nel 2006, non l'ha fatto quest'anno e non lo farà con la UEFA. O che vadano a trattare in maniera politica, facciano un po' loro, ma io da tifoso non voglio credere che la Juve si fa prendere a pesce in faccia in questo modo dalla UEFA. Per cui stiamo a vedere, dovesse succedere una cosa del genere, io questa volta mi aspetto la guerra totale da parte della società e della proprietà, non voglio storie, non voglio discussioni, non voglio patteggiamenti, la guerra totale. Se fanno un numero del genere ci vuole la guerra totale. E basta. Quindi piccola pillola questa mattina, farò così perché non ha senso star qui a parlare minuti e minuti quando non ci sono grossi ragionamenti da fare. Mi raccomando, la cosa fondamentale, iscrivetevi al canale, aiutatemi arrivare a 1000 iscritti per agosto, per ferragosto, o al massimo per fine agosto. Commentate, condividete il video, mettete un bel like e passate una buona giornata.